Siamo nate da una grande intuizione. Semplificare il lavoro di molte aziende. Siamo cresciute con cura, innovazione e competenza. Affianchiamo diverse produzioni, ottimizzandone i tempi, in modo sostenibile, grazie a tecnologie evolute con cui siamo fatti. I nostri automatismi sanno rendere perfetti i vostri pezzi grezzi, piccoli o grandi che siano, standard e speciali. Elettricità, luce, pressione attraversano il nostro corpo. Software evoluti e materiali innovativi ci forgiano in un'anima unica, dove ogni parte è gestita e controllata in tutte le fasi. Persone motivate e appassionate, ogni giorno ci assemblano con attenzione. Siamo solide, affidabili e garantiamo performance eccezionali. Precisione, velocità, flessibilità e consumi ridotti. Siamo l'eccellenza di una grande azienda, che da 60 anni continua a guardare avanti, pensando al vostro futuro. Noi siamo Trevisan, le vostre macchine utensili.